in questa seconda domenica di pasqua domenica della divina misericordia l'evangelista giovanni ci invita a contemplare gesù risorto che incontra i suoi discepoli la sera stessa della sua risurrezione dei morti a quell'incontro era assente l'apostolo tommaso che gesù incontra otto giorni dopo i racconti delle apparizioni di gesù risorto ai suoi discepoli ci illustrano il cammino di fede che si compie nel cuore dei discepoli all'inizio della pagina evangelica si evidenzia una relazione diretta tra l'esperienza della visione del risorto e lo sviluppo della fede nella sua risurrezione alla fine della pericope gesù introduce la beatitudine di coloro che credono senza aver visto nella scena del primo incontro di gesù con i suoi discepoli notiamo un particolare importante che si riferisce al corpo risorto di gesù per prima cosa gesù quando si trova in mezzo ai suoi discepoli mostra loro i segni della crocifissione per dimostrare che egli è risorto con il suo vero corpo a questo punto ai discepoli è tolto ogni dubbio che colui che sta di fronte a loro è vivo è lo stesso gesù che è stato crocifisso tuttavia il corpo di gesù che era che era che ora partecipa della gloria di dio non è più sottoposto alle leggi fisiche cui sono sottoposti i nostri corpi ancora soggetti alla morte la sua natura umana è stata rivestita di immortalità e questo consente a gesù di superare le barriere fisiche di entrare nella stanza in cui si trovavano chiusi i discepoli per paura dei giudei questo aspetto particolare che è legato alla sua risurrezione fa sì che il risorto ci possa incontrare ovunque noi siamo anche quando siamo rinchiusi nelle nostre paure apparentemente inaccessibili il fatto di vedere gesù ancora in mezzo a loro riempie il cuore dei discepoli di una gioia indicibile l'immagine di gesù morto in croce ed è posto nel sepolcro stava davanti ai loro occhi come un macigno che aveva seppellito ogni speranza e cancellato completamente il ricordo delle promesse che gesù aveva fatto loro circa la sua risurrezione dai morti una gioia inaspettata in attesa nel pieno del lutto del dolore profondo per la morte atroce del maestro ma quella gioia iniziale legata alla vista del signore risorto è destinata ancora ad aumentare a diventare ancora più avvolgente quando il risorto elargisce loro i suoi doni e di quali doni si tratta innanzitutto l'evangelista giovanni riferisce le parole che gesù rivolge ai suoi discepoli pace a voi non si tratta di un semplice saluto augurale ma piuttosto del dono che cristo risorto dai morti offre ai suoi discepoli e che è il frutto della sua vittoria sul peccato e sulla morte e la pace che scaturisce dalla nuova ed eterna alleanza che gesù ha stabilito con l'umanità nuova riconciliata con dio per mezzo del suo sangue prezioso versato al posto nostro si tratta della pace tra cielo e terra che inaugura un tempo nuovo nella storia della salvezza il tempo dello spirito presente nella chiesa la pace che gesù risorto dona ai suoi discepoli riempie i loro cuori di una gioia indicibile ma non solo i cuori degli apostoli anche i cuori dei battezzati in cristo che hanno dato vita alle prime comunità cristiane nelle quali la gioia si manifestava nella comunione autentica nella preghiera nello spezzare il pane nel sostenersi reciprocamente in tutte le necessità il risorto effonde poi sui discepoli lo spirito santo il dono più grande in quanto si tratta dell'amore di dio che viene effuso nei nostri cuori per mezzo di questo dono essi vengono gli apostoli discepoli vengono rigenerati come nuove creature nello spirito e allora e a loro viene conferito il potere di rimettere i peccati gesù dona alla sua chiesa il potere di rimettere i peccati a coloro che credono in lui in modo che essi possano attingere abbondantemente al torrente della sua misericordia infinita che scaturisce dalla sua umanità glorificata dal suo costato trafitto quale dono tra straordinario ci ha fatto gesù nel sacramento della riconciliazione oltre ai doni della pace dello spirito santo del potere di rimettere i peccati dall'incontro con il risorto scaturisce anche un altro dono fondamentale per la vita cristiana e di questo dono l'evangelista giovanni parla nel corso del racconto del racconto nel successivo di gesù con i discepoli incontro in cui questa volta è presente anche tommaso l'apostolo si è trovato di fronte ad una scelta molto importante anche molto difficile credere alla testimonianza degli altri discepoli che avevano visto il signore oppure pretendere di avere una propria esperienza sensibile della presenza del risorto come fondamento per credere egli ha scelto la seconda opzione dichiarando apertamente se non vedo se non metto la mano io non credo la pretesa di tommaso è certamente comprensibile e ragionevole per questo gesù acconsente a tale pretesa incontrando tommaso e mostrandogli i segni della sua passione nello stesso tempo però gesù rimprovera tommaso in qualche modo lo rimprovera per la sua incredulità non essere incredulo ma credente ecco un altro grande dono che scaturisce dall'incontro con il risorto la professione di fede in gesù riconosciuto signore e dio tommaso riceve l'illuminazione della fede che gli permette non solo di riconoscere in colui che stava di fronte a lui vivo il maestro che era stato crocifisso ma anche di proclamare la sua divinità mio signore mio dio tommaso ha creduto perché ha veduto la sua fede è scaturita dalla propria esperienza sensibile di incontro con il risorto tuttavia gesù proclama beati tutti coloro che crederanno che egli è risorto dai morti anche se non lo avranno visto di persona ma si saranno fidati della testimonianza di coloro che lo hanno visto dopo la resurrezione dei morti lo spirito santo concede loro il dono della fede in gesù risorto attraverso la meditazione della scrittura è proprio a loro a noi che l'evangelista giovanni consegna la sua testimonianza oculare affinché anche noi possiamo credere che gesù è il cristo il figlio di dio fatto uomo morto e risorto per noi e credendo abbiamo la vita nel suo nome come allora rispondere al brano del vangelo di questa domenica innanzitutto siamo chiamati a credere nella resurrezione di gesù cristo che costituisce il fondamento della fede cristiana sulla base della testimonianza degli apostoli che ci è stata trasmessa nella chiesa ci ricorda l'apostolo paolo se cristo non è risorto evana la nostra predicazione ed evana la vostra fede se cristo non è risorto evana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati il contenuto centrale della professione della nostra fede è che Gesù è il cristo egli è il verbo eterno di dio fattosi uomo morto risorto per la nostra salvezza e che ora vive immortale alla destra del padre perché dobbiamo professare la nostra fede in gesù cristo con le parole con le opere qual è l'effetto per la persona che crede questo bene ce lo ricorda l'apostolo giovanni chiunque crede che gesù è il cristo è nato da dio e chi vince il mondo se non chi crede che gesù è il figlio di dio la fede in gesù cristo ci rende figli di dio partecipi della sua stessa natura divina della sua vita questo è l'avvenimento decisivo che cambia la nostra persona e che accade in forza della fede e del battesimo come ci ricorda ancora giovanni nel prologo del suo vangelo a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di dio a coloro cioè che credono nel suo nome questo ci fa comprendere come credere in gesù cristo e signore oppure non credere non può essere la stessa cosa non è irrilevante per la nostra persona e per la nostra vita anzi la decisione di credere ha un impatto fondamentale e decisivo la fede mediante la grazia dei sacramenti ci fa partecipare della figliolanza di cristo il fatto di essere figli di dio crea una comunione interpersonale che non è tanto fondata sulla condivisione della stessa natura umana quanto piuttosto alla partecipazione della natura divina siamo uno in cristo su questa base comune nasce la vera solidarietà e l'accoglienza reciproca alla base della nostra fede ci deve essere sempre l'amore forte e vivo per gesù cristo che spinge i credenti a porre cristo al centro della propria vita dei propri pensieri naturalmente l'amore per cristo si accompagna all'amore per i fratelli amare dio con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutte le forze e i fratelli con lo stesso amore con il quale cristo ci amati è possibile perché i battezzati in cristo hanno ricevuto il suo stesso spirito il cammino di santità per i cristiani consiste proprio nel lasciarsi permeare dell'amore divino che spinge ad amare il signore e ad amarsi a vicenda come cristo ci ha amati questa fede nel signore risorto che ha vinto la morte e il peccato per noi e che ora vive per sempre fa scaturire nel nostro cuore la speranza di partecipare alla sua vittoria sul male già da ora quando ci troviamo di fronte a difficoltà e angosce come quelle che stiamo vivendo in queste settimane l'apostolo pietro ci ricorda che noi siamo pieni di gioia anche se dobbiamo essere per un po di tempo afflitti da varie prove affinché la nostra fede messa alla prova torni a nostra lode onore e gloria quando gesù si manifesterà e la ragione della nostra gioia è proprio quella speranza viva quell'eredità che non si corrompe non si macchia e non marcisce per la quale siamo stati rigenerati mediante la risurrezione di cristo dai morti grazie all'infinita misericordia di dio dalla quale nulla potrà mai separarci grazie Grazie a tutti.